Siamo tornati di nuovo qui a Ostia, siamo anche andati a vedere il canale dei pescatori. Oggi stanno continuando i lavori di dragaggio e ci hanno assicurato che dalla prossima settimana parte l'appalto triennale per avere sostanzialmente una manutenzione ordinaria di quelli che sono tutti i fenomeni di questo accumulo di sabbia che di tanto in tanto risale il canale e impedisce ai pescatori di poter uscire e allo stesso tempo impedisce il deflusso delle acque. I pescatori possono stare tranquilli per i prossimi tre anni, sono cominciate le opere di messa in sicurezza di alcune delle arterie importanti di questo municipio. Salve, come va? C'è mamma? C'è? Sì, sì. Di nuovo? Io gliel'avevo detto e sarei tornata. Te la chiamo giù. Siamo tornati a via Casana, oggi siamo venuti a vedere come procedono i lavori per la sistemazione delle voraggini. Il cantiere è molto più esteso, stanno scavando e credo che la prossima settimana saranno in grado anche di iniziare a capire che tempi potranno iniziare a dare per la risistemazione dell'impianto pugnare. Opere di intervento di manutenzione ordinaria, a breve partiranno anche delle manutenzioni straordinarie, quindi rifacimento di interre strade. Insomma, il municipio e Roma stanno ripartendo, il municipio decimo avrà sicuramente una marcia in più. Il municipio in questo momento è un po' un cantiere, però alla fine è quello che serve, quindi, come dire, ci dispiace, ci scusiamo per il disagio, però questo consentirà di avere un municipio più vivibile. Grazie. Grazie.